è una partita fondamentale per cercare di smuovere la classifica in questo campionato di eccellenza bosa nuorese sono qua schierate in campo amici di diretta sport buon pomeriggio dal campo italia di bosa per la partita la quarta giornata del campionato di eccellenza tra bosa appunto le padroni di casa e la nuorese quindi sarà una partita per entrambi fondamentale per cercare di riportarsi e rilanciarsi anche dopo la scorsa partita persa per entrambe eccole qui le due formazioni che si schierano così e adesso sono già subito in campo calcio di punizione parte infatti proprio lui la barriera a respingere lancio lungo con il controllo in area di rigore poi le pallone che viene messo in mezzo per nacket non ci arriva troppo lungo il passaggio per lui il numero tre da in mezzo per corda il pallone per coco il pallonetto per ragazzo ancora fuori gioco prova a rilanciare l'azione offensiva va carboni cambio gioco di carboni per effetto per il capitano salvatore carboni che cambia ancora il gioco in mezzo c'è l'intervento difensivo perfetto salvatore carboni ancora il tentativo per di angelo prova il tiro mette il pallone sulla lunetta del calcio d'angolo la mischia il pallone che viene dato salvatore carboni pallone all'indietro e c'è il gol di spano con il tocco sotto funziona lo schema su calcio d'angolo pallone arriva a santoro viene fermato e poi il tentativo di tiro di varruccio in posizione offensiva mezzo al dare a ragazzo era tutto regolare il pallone messo dalla parte opposta vasteri all'indietro ancora per santoro santoro prova a rimetterla in mezzo pinna si inserisce spano la manda via e poi il tentativo al volo di corda tutti in area a saltare a carboni in mezzo il pallone che danza sulla riga poi con il tentativo di mattiello questa ripresa con il calcio d'angolo steric colpo di testa alla che esce alta sopra la traversa del rio poi mattiello con ballone contratto da manche allora ragazzi che prova a partire da solo finta il passaggio poi vada solo in profondità colpito in area di rigore e per l'arbitro è calcio di rigore il fallo di di angelo ragazzo parte ragazzo uno a uno il gol il ragazzo implacabile dal dischetto il pallone per il capitano e poi nurra prova a sparare in mezzo per ragazzo fermato da pesce poi il tentativo al volo di manca i suoi rimette tutto in ordine l'azione offensiva del bosa con bonu che prova con la conclusione il tentativo a giro pallone che viene messo in mezzo basso questa volta libera la difesa del bosa si ferma però con l'intervento dalla distanza ancora di cocco anche lui in mezzo il pallone con la svirgolata di manca e per poco non ne approfittava bonu si fa vedere lui in mezzo va pin che va a colpire di testa il pallone troppo alto il pallone in profondità fermato da usai va da solo usai se la lingua un po però il pallone arriva comunque per ragazzo è solo ragazzo e fa 2 a 1 dimenticato solo ragazzo doppietta per lui ventisettesimo minuto in compressione della difesa del bosa e qua ragazzo beh fa tutti passaggio di porco ancora largo per bonu per il tentativo in mezzo il colpo di testa doppio l'ultimo è di pinna che però era in posizione di offside perde però il pallone viene allargato con il pallone per porco prova porco a inserirsi in area di rigore li supera tutti e poi prova con il tocco di destro pallone che esce per manca ancora con il contrasto di cabidu fermato poi dal dall'intervento che però non viene fischiato perché l'arbitro fischia la fine di questa partita esattamente al quarto minuto di recupero come detto e allora la nuorese spugna il campo di bosa finisce 2 a 1 per gli ospiti